Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Firenze e Inpruneta e il Bivio per la 11 e per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico. Fino alle 22 di stasera è chiusa in entrambe le direzioni l'uscita di Monte San Savino. Sulla FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Forse Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!